I militari della compagnia Carabinieri di Castellammare di Stabia hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari veste dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta dalla Procura della Repubblica di Napoli, direzione di istituto antimafia, a carico di sei persone, tre delle quali sottoposte a custodia cautelare in caccia in quanto gravemente iniziate dei reati di tentata estorsione e di estorsione aggravate dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan Cesarano o di Ponte Persica e di altre tre persone sottoposte all'obbligo di presentazione alla PG perché gravemente indiziate dei reati di gestione e di illecita detenzione di sostanze stupefacenti. In particolare le estorsioni sarebbero state poste in essere rispettivamente in danno di un gestore di un tratto di spiaggia e sito di Castellammare di Stabia, del titolare di una falegnameria nonché del titolare di uno studio commerciale. In uno degli episodi per commettere l'attività estorsiva, uno degli indagati ristretto in carcere per altri reati si sarebbe avvaso di un cellulare illecitamente detenuto all'interno dell'istituto penitenziario. Il provvedimento è eseguito in una misura cautelare risposta in serie di indagini preliminari avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.